Penso che a David avrebbe fatto molto piacere di vedere che in un posto così centrale di quella che è diventata, di fatto era diventata la sua città, ci sia uno spazio per l'Europa che è una vetrina per i valori europei. Non è solo un modo per conoscere le istituzioni europee, quei valori europei ai quali Sassoli ha dedicato la sua vita e per i quali resta un esempio per la politica.